Voi non fallerete mai, questo perché avete il segno. Scoprite il vostro talento e il vostro segno si renderà leggibile. Guardate, fuoco, guerra, distruzione. Questi segnati saranno grandi, sì, ma per aver fatto del male, come possiamo lasciarli liberi? Sarete mandati in una struttura apposita, l'accademia. Guardate, fuoco, guerra, distruzione.